Ben ritrovati, continua il nostro viaggio nelle realtà locali della Campania, oggi siamo a Montesarchio, incontriamo il sindaco di Montesarchio, Francesco Damiano, che naturalmente ringraziamo per la disponibilità. Sindaco, intanto la sfida dei sindaci delle zone interne, lei guida un comune importante della Valle Caudina, è stato eletto tre anni fa, disse dopo la sua vittoria elettorale che il lavoro sarà una delle priorità, è riuscito a dare un segnale di speranza a questa comunità? Ma guardi, insomma, tre anni fa i tempi erano, si ribalzava ancora con una situazione che poi è andata via via sempre di più, insomma, disgregandosi sul piano nazionale. Adesso viviamo una condizione di attesa rispetto a quelli che sono i processi importanti che abbiamo qui in Valle Caudina, la infrastrutturazione dell'area di crisi di Airola, per esempio, parlo di questa cosa, ma soprattutto parlo della mia realtà per quanto riguarda il settore del commercio, che è quello che, insomma, quando c'è una crisi sul piano più generale è quello che soffre sempre di più. Montesarchio è un paese le cui attività terziarie e commerciali sono abbastanza forti, non solo nella Valle Caudina, ma sono anche punto di riferimento in un'area più generale, che è quella della provincia di Benevento e anche a cavallo con, diciamo, il Casertano, siamo ai confini come area geografica. Per cui qualche sforzo l'abbiamo fatto, qualche azione diretta l'abbiamo fatta, crediamo di aver fatto, insomma, tutto quello che dovevamo per tenere in piedi un settore che è primario per noi. E soprattutto sto notando che un altro settore importante nostro, quello dell'agricoltura, dell'ortofrutto, dell'agricoltura in genere, dell'agroalimentare, è un settore che va sempre di più sviluppandosi anche con nuove realtà giovanili, con aziende che si mettono sul mercato e che stanno incominciando ad andare benino. Per cui quello è un settore da tenere in grande considerazione e che stiamo seguendo molto bene, sia attraverso quelli che sono i PSR, che insomma sono partiti adesso sul piano regionale, sia per quanto riguarda la vicenda Gall, che è una vicenda che stiamo seguendo meglio rispetto alle annualità precedenti, perché riteniamo che quello strumento possa essere anche di riferimento per questo tipo di attività, per il settore terziario, sia per quello commerciale che per quello agroalimentare. Ecco, naturalmente oggi la sfida dei comuni è soprattutto quella di mettersi insieme non solo per la gestione dei servizi, ma anche e soprattutto per disegnare lo sviluppo del territorio per quanto riguarda il futuro. Che tipo di ostacoli secondo lei, Sindaco, ci sono ancora per mettere insieme queste comunità locali? Ma guardi, io sono abituato ad essere Montesarchesi in tutto, per cui forse faccio male a non fare, faccio pochi proclami e sono abituato a lavorare in maniera soda e tosta, come tutti quanti i colleghi sindaci italiani in questo momento che sono veramente chiamati a imprese per tenere in piedi i comuni. Parto dal presupposto che è brutto e sempre difficile dire l'eredità, ma diciamo tre anni di lavoro sul nostro bilancio ci hanno consentito adesso di guardare con un futuro un po' più rosio quello che saranno nelle prossime scadenze, perché abbiamo dovuto fare non solo per normative nazionali, sul piano dell'armonizzazione dei bilanci e tutto quello che era il discorso nazionale, siamo passati a una nuova concezione della gestione dei bilanci degli enti locali. E' passata questa cosa non facendola capire molto ai cittadini, ma noi amministratori abbiamo dovuto fare salti mortali, abbiamo dovuto stringere molto la cinta. Montesarchesi è tra questi comuni che ha dovuto pagare restrizioni e trasferimenti che non ci sono stati dal punto di vista più generale del governo nazionale. Adesso avendo fatto questo lavoro riusciamo a guardare un po' con fiducia quello che saranno gli ultimi due anni con cui siamo chiamati a impegni che ci siamo assunti con il nostro programma e che dobbiamo portare avanti. Questo per dire che una delle prime cose che io sono stato il primo presidente dell'Unione dei Comuni della città caudina, che abbiamo costituito, che è un organismo ormai che ha fatto già tante cose, ne cito una per esempio, noi siamo l'unica Unione dei Comuni della regione campagna che ha un PAES approvato, un piano per l'energia sostenibile con investimenti per 70-80 milioni sugli immobili comunali, per l'abbattimento del CO2 in atmosfera. Ecco quindi è un progetto ancora valido quello della città caudina, non bisogna guardare oltre secondo lei? Per due ordini di motivi, uno per un motivo di costituzione giuridica perché ormai il legislatore impone ai comuni di mettersi insieme per la gestione dei servizi, l'altro perché l'area vasta della città caudina è fondamentale per la gestione dei fondi comunitari, noi ci stiamo vedendo in questi giorni perché presenteremo sul fondo di rotazione regionale per la progettualità più generale, presenteremo alcuni investimenti e programmi che faremo come area vasta perché nel nuovo POR 2016-2020 della regione Campania è obbligatorio una massa critica di 30-50 mila abitanti, per cui noi siamo 53 mila, per cui siamo anche ben oltre quello che la regione Campania ci impone. E questo per fare in modo tale, adesso non sono più io Presidente perché noi ogni anno cambiamo il nostro Presidente, questo non significa niente, anzi è una forza che mettiamo in campo perché significa che ognuno di noi è chiamato a dare il proprio consenso ad azioni comuni che faremo per far crescere la nostra realtà, che è un'area omogenea determinata storicamente, la Valle Caudina è così, non ci siamo inventati niente, siamo stati solo divisi dalla nostra appia, dalla nostra vecchia strada, la regina di Arum in due province, quella di Avellino e quella di Benevento, ma noi per arrivare a Cervinale sono 4-5 km, per arrivare a San Martino sono 3 km, quindi siamo un'area omogenea di fatto e dobbiamo costruire azioni comuni perché la nostra realtà è veramente molto omogenea, lo sforzo che dobbiamo fare e che stiamo facendo è questo. Ecco, in questa zona di Cerniera, come diceva lei, tra Irpini e Sannio, quale ruolo intende svolgere la città di Montesarchio? La città di Montesarchio, storicamente, noi siamo il comune più popoloso dopo Benevento città, dopo la città Capolucco e Montesarchio, la città più grande della provincia di Benevento, quindi di fatto siamo stati sempre storicamente un po' il polo di attrazione, soprattutto da un punto di vista commerciale, di attività produttive e vogliamo mantenere questa peculiarità, non solo all'interno della Valle Gaudina che ci vede insieme a realtà importanti come Montesarchio, cito le più grandi, Airola, Cervinara, siamo 10 comuni che costituiscono l'unione dei comuni della città Gaudina ed è una cosa che piano piano stiamo trasferendo anche sul piano regionale, abbiamo fatto una bozza di piano strategico della città Gaudina, abbiamo già inviato a Napoli le strutture perché stanno mappando le possibili aree vaste che ci sono in Regione Campania perché quelle sono riferimento come attrattori per finanziamenti regionali, perché oggi sia la Comunità Europea che la Regione Campania non finanzieranno a pioggia i singoli comuni, ma ad aree vaste e credo che questo sia una cosa giusta, ci arriviamo anche con un po' di ritardo perché se fosse avremmo guardato in passato, avessimo guardato in passato la nostra realtà come un'area vasta ci saremmo sicuramente determinati a fare cose importanti, ne cito una, quando sono stato amministratore dell'Alto Calore abbiamo realizzato un depuratore comprensoriale della città Gaudina, togliendo depuratore dai singoli comuni che hanno consentito di abbattere i costi, ma anche di avere un'attivizzazione sul piano ambientale. Ecco oggi quali sono le vere priorità per questo territorio? Lei ha fatto riferimento alle infrastrutture, che cosa manca per un effettivo rilancio del territorio? Sono convinto che noi abbiamo due o tre ordini di problemi che dobbiamo mettere in campo e che la politica che ci ha tenuto divise, come ho detto prima, in due realtà distinte di Avellino e Benevento che hanno solo indebolito quest'area. Noi siamo un'area di 60 mila abitanti che è grande, quanto Benevento è più grande di Avellino, l'area della città Gaudina, dell'Unione dei Comuni della città Gaudina. Abbiamo questo ordine di problemi, mantenere un ambiente che sia all'altezza della situazione. Noi siamo tra due parchi naturali, quello del Taburno e quello del Partegno e dobbiamo preservarlo, questo ambiente che è un ambiente bellissimo perché ci consentirà anche di sviluppare turisticamente le nostre realtà, i nostri borghi, perché siamo a un tiro di schioppo dall'area metropolitana che ha milioni di persone che potrebbero venire qui a visitare non solo il nostro museo archeologico o le nostre montagne, i nostri parchi, ma anche fare attività turistica, quindi preservare il nostro ambiente e quindi fare attività infrastrutturali, ne cito una, l'Iscler, un fiume che bisogna recuperare perché è in condizioni non buone e che dovremmo recuperare. L'altro tema, io per esempio quando ho avuto la possibilità di poter accedere ai fondi regionali, ho preferito fare per 5 milioni un sistema di completare il nostro sistema fognario perché credo che una città per essere all'altezza della situazione deve avere infrastrutture primarie all'altezza del compito, per cui redditiche che in questo momento servono a gestire un servizio infrontare per i cittadini e una rete fognare che sia all'altezza della situazione. Dobbiamo completare anche questo lavoro. Sarebbe stato più facile fare qualche giardinetto, qualche lavoretto che si vede agli occhi della gente, abbiamo preferito fare infrastrutture che sono sottoterra, che non si vedono ma che fanno un servizio primario. Sì, avranno un valore strategico naturalmente per il futuro. Intanto, Sindaco, lei... E poi l'altra cosa che volevo aggiungere, dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, al di là delle nostre bandiere politiche che ognuno di noi ha legittimamente, dobbiamo lavorare per fare in modo che non rimaniamo isolati nella costruzione degli assi regionali. Ne cito uno per esempio. Non abbiamo uno sbocco sull'area centrale napoletana, abbiamo questo imbuto che è Arpaia, che è Val di Sesso, Santa Maria Vigo, che non ci consente di arrivare presto nell'area metropolitana di Napoli. Stiamo lavorando su questo nel piano conquernale dell'ANAS, per la prima volta viene citata la Benevento Caserta via Valle Caudina, per cui abbiamo 150 milioni che sono leggi dello Stato per la prima volta, che ci consentiranno di poter fare una progettualità da mettere in campo e incominciare a ragionare su una strada che ci consenta di uscire dalla Valle Caudina e arrivare presto sulla Napoli-Salerno o sull'asse di Nola, praticamente nel Nolano. Questo significherebbe accorciare molti tempi di arrivo verso quest'area. L'altro è il completamento del fondo Valle Isclero, stiamo lavorando come provincia di Benevento, perché è una strada che è di proprietà della provincia, per cui mancano alcuni chilometri per poterla completare, che ci consente di arrivare sulla Talese Canelli in maniera veloce, che sbuccheribbe sempre qui in Valle Caudina. Abbiamo avuto la sicurezza matematica, perché nel progetto Campania, che è uscito come legge dello Stato, fatto dal governo Renzi, abbiamo anche questi ultimi 80 milioni sulla campizia Piano Tardine, che è la strada che dovrebbe consentirci di arrivare sulla Piano Tardine da Avellino. Per cui queste sono le nostre priorità infrastrutturali, le grandi infrastrutture. Senza le grandi infrastrutture ce lo spiegano gli spagnoli, i polacchi, noi abbiamo preferito spezzettare i nostri finanziamenti e fare poche opere strategiche, invece dobbiamo concentrarci sulle grandi questioni. L'altra situazione che pure sono contento di averla portata a termine da un punto di vista politico è il completamento della Fondovalle Vitulanese, che è la strada che praticamente arriva a Montesarchio, ma ci arriva dalla Valle Vitulanese, per cui ridiventeremo di nuovo centrali facendo questo tipo di infrastrutture. Insomma, questi sono chiaramente gli obiettivi che possono rilanciare lo sviluppo di questo territorio. Intanto, Sindaco, il rapporto con la regione Campania, il governatore De Luca è parso più attento alle esigenze dei territori delle zone interne, almeno in questa fase rispetto al suo predecessore. Da lui che cosa vi aspettate in termini concreti? Ma guardi, con il governatore con cui abbiamo rapporti antichi e che abbiamo costruito nel corso del tempo, lui è un amministratore come tutti quanti noi, per cui capisce e conosce meglio degli altri quali sono le problematiche che hanno le comunità o comuni grandi o piccoli. Sì, c'è un'attenzione maggiore rispetto alle aree interne e alle piccole comunità. siamo rimasti d'accordo che proprio questo progetto della città caudina sarebbe stato oggetto di una visita particolare del governatore che stiamo organizzando qui da noi per fargli fare un giro, innanzitutto per fargli visitare un po' le nostre zone in maniera un po' più dettagliata e per presentare in maniera dettagliata alcune opere strategiche che noi riteniamo fondamentali da mettere sul POR e candidarci come area vasta della città caudina. Questo lo faremo presto e a breve. Adesso abbiamo consegnato per esempio la proposta GAL che vede proprio l'area caudina centrale nei ragionamenti che vi saranno da questo punto di vista sul PSR. Stiamo guardando con grande attenzione quelli che sono altri appuntamenti del PSR e stiamo aspettando i bandi che usciranno sul nuovo POR. Insomma staremo a vedere. Per chiudere, Sindaco, non ho fatto riferimento al suo incarico di vicepresidente della provincia che è assunto da un paio di mesi. Questo può essere utile secondo lei nel rapporto tra Valle Caudina e provincia di Benevento, anche se le province negli ultimi tempi ovviamente stanno perdendo un ruolo strategico? Sì, da un punto di vista di risorse, lei sa meglio di me, facendo l'attività di giornalista che le province soffrono in questo momento una costruzione finanziaria e economica che è spaventosa. Non abbiamo praticamente mezzi finanziari per gestire la nostra rete stradale. Io personalmente mi sto concentrando molto su alcune cose che credo siano fondamentali per la crescita del nostro territorio, che sono le scuole. Senza la scuola non si va da nessuna parte, bisogna essere attenti su questo settore, sia per quanto riguarda l'edilizia scolastica, proprio in riferimento alle ultime situazioni nostre del nostro territorio così sismico, per cui bisogna stare molto attenti, sia per quanto riguarda la vivibilità di alcuni spazi, che sono spazi appunto quelli scolastici. Stiamo cercando di fare investimenti da questo punto di vista. Bene, grazie Sindaco, naturalmente in bocca al lupo per il suo lavoro, grazie per la parte tecnica a Michele Urciolo, grazie naturalmente a quanto ci hanno seguito. Grazie a voi, un saluto a tutti. Buon proseguimento con Otto Channel, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.